Il neutro sui pulsanti per comandare l'elè. Si può fare, non si può fare? Allora, oggi, mentre sto facendo questo webinar, ancora non si può fare, perché nella norma c'è scritto che non si può, tuttavia c'è un tweet, chiamiamolo così, del CEI, in cui è indicato che la possibilità viene data. Diciamo che è una parziale vittoria, perché la vittoria sarebbe stata che tutti gli elettricisti fossero stati uniti, avessero preso quei relai che vogliono il pulsante nel neutro, l'avessero tirato nella schiena al produttore e al venditore, così smettevano di propinarcelo. Però, ascoltate, adesso, l'importante è che riusciamo ad ottenere un qualcosa che permetta all'elettricista di non fare un lavoro che poi è contestabile, perché nel momento in cui un lavoro è contestabile, si va a perdere tutta l'autorità che l'elettricista si è creato in tanti anni di sforzi, di lavoro, di fatiche, di studio. Quindi questa è la cosa fondamentale, non perdere l'autorità acquisita. Per non perdere l'autorità acquisita, non bisogna avere contestazioni.